Il momento in cui i clienti entreranno in solo, entreranno sicuramente in un ambiente caratterizzato dal lusso. Vado ad appartenere a, vado a prendermi un modo di vivere le cose, un modo di avere le mie cose. Siamo orgogliosi di questo e quindi anche con una cosa semplice come una tazzina, speriamo di diffondere il Made in Italy, il Made in Roma. I'm going to produce for them an airwear and also some handbag. I really love the uniform in general, the fact that you don't have to think you just wear something. Every smell is a perfume, what their lounges would be like and what their customers would like to have. It is important to make a perfume which has a depth. I'm going to give you a few minutes. Grazie a tutti